Oh, bene amici, ci siamo, da domani riprendono i pagamenti e inizia un vero e proprio tour de force di 6 giorni, pieni, strapieni di disposizioni. Ma Inps annuncia anche tante nuove date, nuove rate, oltre ad un allarme che sa di beffa. Adesso vi spiego tutto, state con me fino alla fine, mi raccomando, io sono Mr. Lull, un bel like per sostenere il video e il canale, l'iscrizione col campanone per non perdervi tutti i prossimi aggiornamenti e se volete aiutare il canale c'è anche il tasto abbonamentone. Sigla! Quindi domani finalmente si inizia con le pensioni di settembre anticipate per il mondo poste proprio dal 26 e poi scaglionate fino al primo di settembre per il ritiro, per cognomi, dei contanti allo sportello. Secondo, questo calendario ufficiale pubblicato già da Inps, anche da poste italiane, che vedete in sovraimpressione. Accredito in banca invece il primo settembre, classico come al solito, nessun cambiamento. Ma domani è un giorno caldo anche per il prosieguo dei pagamenti del REM, reddito di emergenza, BIS. Si parla però sempre, attenti, della prima rata con competenza giugno. Verificate quindi il vostro fascicolo previdenziale perché sono uscite diverse nuove date per questa coda di agosto. Ancora però tanti di voi attendono purtroppo l'esito o comunque ancora la data di pagamento. Per quanto riguarda invece la rata di luglio, che sarebbe la seconda delle quattro, me lo chiedete tutti, probabilmente vedremo le prime disposizioni nella, diciamo, dall'1 al 10 di settembre, nella prima decade del prossimo mese. Attenti poi perché, insomma, lo sapete, ci siamo. Questa notte ci saranno le lavorazioni del reddito e della pensione di cittadinanza per le ricariche ordinarie. Elaborazioni super importanti perché INPS dovrà calcolare anche gli eventuali recuperi del non speso semestrale e l'ultima volta, se vi ricordate, non è andata benissimo. Quindi incrociamo le dita e il 27, oltre appunto alle ricariche ordinarie, ci attendiamo anche le integrazioni dei bonus comprensivi, sempre ovviamente su RDC. Attenti perché sempre nel 27 arrivano anche alcune naspi un po' ritardatarie e diversi trattamenti integrativi, i famosi bonus 100 euro. Poi ancora, a segno unico ponte, c'è, come al solito, poca uniformità nella gestione di esiti e pagamenti, insomma, da parte dei INPS, lo sapete, non è una novità, però sono uscite tante nuove date nei fascicoli, sempre con riferimento alla prima tranche anche qui di luglio. Abbiamo 27, 30, 31 e 2 settembre. Verificate la vostra e fatemi sapere nei commenti. Sono iniziati poi, fortunatamente, ad uscire anche, ufficialmente annunciati anche da INPS su Twitter, i primi esiti per chi ha fatto domanda del bonus onnicomprensivo, 1600 euro sostegni bis. Ho visto addirittura una prima disposizione per fine agosto, e attenti soprattutto a chi si trova un esito negativo con causale percettore di RDC. In questi casi non dovete preoccuparvi perché il bonus, anche se sembra rifiutato, sarà comunque integrato sulla carta gialla. Quindi INPS scrive rifiuto, motivo RDC, però poi integra cose così. E domani 26, anche tante ricariche, tanti accrediti per il bonus bebè. Purtroppo però, come sempre, c'è un ma, c'è un purtroppo. Continua l'allarme sui fondi che sono ufficialmente finiti per l'erogazione delle indennità di quarantena da Covid-19, che resta dunque senza coperture finanziarie per l'anno in corso, per il 2021. Le roboanti richieste sindacali quindi per ora non hanno portato alcun tipo di risultato, nessuna presa di posizione e né tantomeno rifinanziamenti nelle casse dell'Inps da parte dell'esecutivo dei migliori. In sintesi, chi dovrà restare a casa, isolato, in quarantena e quindi assente dal lavoro, beh, si vedrà scaricare questi giorni dalle sue ferie e dai suoi permessi, pagando di fatto la quarantena di tasca propria. Prima di chiudere vi faccio vedere anche uno screen di qualche giorno fa per un pagamento di CIG Industria. Quindi, insomma, qualcosa si muove ma, come sempre, in maniera totalmente scoordinata perché, lo sapete, i pagamenti delle integrazioni salariali variano da persona a persona, da azienda a azienda, caso a caso e soprattutto da tipologia di cassa a tipologia di cassa. Detto questo, come al solito, spero che questa panoramica vi sia stata utile. fatemelo sapere con un bel like, l'iscrizione col campanone, per non perdervi i prossimi aggiornamenti, tipo quello sulle lavorazioni che ci saranno questa notte e se volete aiutare il canale c'è sempre il tasto abbonamentone. Alla prossima, grazie. Da Mr. Lul.